Giovanna Lapparsa Spagna, 22 agosto 1496 Nel porto di Lardo, una flotta di 20 navi sta per partire diretta ad Anversa Sul molo, la regina Isabella di Castiglia saluta la figlia Giovanna che sta andando in sposa all'arciduca d'Austria, Filippo il Bello Giovanna ha soltanto 17 anni e piange disperata Madre cara, quando potrò rivedervi? Solo Dio ha la conoscenza di ciò che accadrà Figlia mia, i tuoi unici doveri ora sono verso Filippo, la borgogna e le fiandre Ma se non lo amassi, se non potessi sopportare la sua vicinanza Questo non conta, non ti è concesso prendere iniziative, farti testa tua La giovane abbraccia la madre, ma quelle parole risuonano ancora nella sua mente e rassegnata, va incontro al proprio destino Giovanna è nata a Toledo il 6 novembre 1479 da Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona Sin dalla prima infanzia, la madre le ha impartito un'educazione dura e autoritaria che l'infanta sembra non voler accettare Già verso i 14 anni si rifiuta di presenziare alle cerimonie pubbliche e preferisce la compagnia delle ancelle moresche da cui impara a decifrare la cabala, ad ascoltare le storie d'amore e d'avventura di dame e cavalieri Spesso viene trovata in ginocchio sul pavimento, a piedi nudi con indosso soltanto la camicia, immerse in pensieri segreti di cui nessuno indovinerà mai la natura Sin da bambina, Giovanna si sottopone di propria volontà a pesanti digiuni, meditazioni, atti di carità Sotto gli abiti porta delle croci e perfino il cilicio Nonostante questo suo fervore mistico, non riesce a sopportare la religiosità della corte di Spagna che riunisce attorno a sé un clero bigotto e inquisitore Così infatti si sfoga con il suo precettore Non posso sopportare che mi siano vietati i balli che si indaghi sulla profondità delle mie scollature sullo sfaviglio dei miei gioielli mentre i peccati più terribili vengono lavati via con una semplice confessione I genitori, comunque, hanno già deciso il suo destino che sarà quello di sposa dell'arciduca d'Austria, Filippo figlio di Massimiliano d'Asburgo Il matrimonio dovrebbe peraltro evitare l'isolamento politico della Spagna e cementare un sistema di alleanze contro la Francia Dopo quasi un mese di navigazione le navi spagnole entrano nel porto di Anversa Giovanna è attesa con ansia dal popolo ma il primo impatto con lei non è affatto buono è inaudito una principessa una futura regina vestita come una contadina con quegli abiti orribili così pesanti, così antiquati Manca di ogni grazia sembra una dama di compagnia ma cosa dico? Una sguattera No, no, non è certo adatta al nostro bel Filippo Filippo d'Asburgo è un bel giovane prestante con meravigliosi capelli biondi ed occhi celesti ha anche la fama di essere un donnaiolo Vincenzo Quercini ambasciatore di Venezia dice di lui Non è soltanto bello è svelto e vigoroso ha un carattere brillante in modi disinvolti anche se a volte può sembrare altezzoso nei suoi occhi si legge un futuro radioso di sovrano Il primo incontro fra Giovanna e Filippo avviene il 18 ottobre a due soli giorni dalle nozze già decise da tempo per procura La fanciulla che di lui possiede soltanto un ritratto è nervosa e preoccupata ma quando Filippo le si avvicina e le prende la mano Giovanna se ne innamora immediatamente Il 20 ottobre i due si uniscono in matrimonio e per Giovanna inizia una nuova vita come arciduchessa d'Austria Intanto la madre Isabella dalla lontana Spagna pensa a lei e confida al marito Ferdinando I nostri ambasciatori hanno riportato sui comportamenti libertini e frivoli della corte di Borgogna Temo che Giovanna possa rimanerne traviata o peggio che possa incorrere in qualche terribile guaio che io possa vegliare su di lei La severità dell'educazione ricevuta nell'infanzia però si fa ancora sentire e la neo sposa ne subisce ancora il potere Infatti benché lo ami moltissimo Giovanna spesso rifiuta di concedersi al marito Filippo che vuole a tutti i costi un erede diventa furioso e decide di isolare la moglie rispedendo in Spagna la maggior parte del suo seguito I nuovi consiglieri messi al suo fianco finiscono ben presto per plagiare Giovanna che nonostante tutto ancora vacilla Non starò contravenendo gli insegnamenti di mia madre non incorrerò nel peccato Peccato sarebbe ritirarvi sottrarvi ai vostri doveri alle fantasie del sovrano vostro marito e signore Se dovesse cercare altrove la sua soddisfazione allora sì sareste colpevole sareste voi la responsabile dei suoi peccati Fra lusinghe e minacce Giovanna si decide a soddisfare il desiderio di paternità di Filippo e nel giro di tre anni dà alla luce ben tre figli Eleonora Carlo e Isabella In segno di scherno adesso viene addirittura battezzata la Giovenca mentre è incinta di Carlo è colta dalle doglie nel bel mezzo di un ricevimento e il piccolo viene alla luce in un lavatoio Filippo sprezzante commenta Non c'è che dire una donna che partorisce in un gabinetto un futuro re-imperatore è capace di tutto Ormai tranquillo per aver messo al mondo i suoi eredi Filippo comincia a disinteressarsi della moglie i litigi sono sempre più frequenti e Giovanna viene progressivamente isolata inoltre Filippo manifesta un pericoloso avvicinamento alla Francia che allarma i sovrani spagnoli Isabella preoccupata ancor più per la Spagna che per la figlia coglie la scusa di una grave malattia che l'ha colpita per chiedere ai due sposi di recarsi da lei a farle visita scrive dunque al suo incaricato d'affari mi avete riferito notizie terribili gli alterchi e continui litigi fra mia figlia e l'arciduca non fanno presagire nulla di buono temo che il disinteresse di Filippo per Giovanna adombri un allontanamento dalla sfera di interessi spagnola che giungano al più presto qui allora che possa vederli con i miei occhi prima che si chiudano per sempre Filippo e Giovanna partono per la Spagna è un viaggio lungo e pesante durante il quale i due non fanno che litigare furiosamente mentre attraversano la Francia la carrozza reale viene fermata da una zingara che insiste per predire il futuro all'arciduca prevedo sciagure signore guardatevi le spalle guardatevi dalle persone che vi stanno accanto voi che posserete in Spagna più tempo da morto che da vivo quelle parole turbano profondamente Giovanna che per di più all'arrivo in Spagna trova la madre Isabella molto malata non meno autoritaria però ma ora Giovanna non è più disposta ad accettare i suoi ordini è una donna cambiata anche nel carattere soffre di repentini sbalzi di umore dovuti soprattutto alla gelosia per il marito che la tormenta letteralmente infatti quando Filippo viene richiamato nelle fiandre Isabella impedisce alla figlia di seguirlo per lei è un trauma voglio tornare da mio marito non so dove si trovi né cosa faccia è soltanto per colpa vostra dovresti pensare ai tuoi figli al tuo paese la gelosia ti ha fatto perdere il senno voi non potete comprendere la portata del mio sacrificio che cosa ne sai tu del mio sacrificio di donna la corona non è solo potere è soprattutto dovere tu sei la futura regina di Castiglia ed essere fedeli vuol dire stare con la tua gente non altrove temendo poi che la figlia potesse fuggire Isabella dà ordine alle guardie di tenerla segregata al castello la prigionia forzata e la lontananza da Filippo fanno peggiorare lo stato depressivo della giovane che comincia a dare segni di squilibrio mentale il medico che la visita scrive l'infanta non dorme vomita il poco cibo che è costretta ad assumere ha improvvisi scoppi d'ira e immediatamente dopo cade in un sonno agitato dal quale si risveglia dopo moltissime ore Isabella tornata al palazzo di Alcasar per affari di stato riceve quotidiani rosoconti sul suo stato di salute che non sono affatto rassicuranti ogni giorno lancia urla maledizioni invettive sulle guardie e sui propri genitori e contro l'altissimo il freddo vento di novembre spazza le mura e talvolta per pietà un soldato leggetta addosso una coperta di lana o accende un fuoco accanto a lei giura spesso che si vendicherà e che ucciderà la propria madre ormai in tutta la Spagna corre voce che Giovanna si appazza Isabella ormai stanca e affaticata si reca dalla figlia e riesce a fatica a riportarla alla ragione fin quando giunge una lettera d'anversa in cui Filippo chiede a gran voce il ritorno di Giovanna una volta ricongiuntasi all'amato marito tutto sembra tornare alla normalità ma è soltanto alla quiete prima della tempesta infatti una volta tornata a Bruxelles Giovanna viene a conoscenza dei tradimenti del marito e prende a inveire contro Filippo come una furia minacciando di ucciderlo scoperta l'identità di una sua amante tenta di sfigurarla con un pugnale ma viene fermata in tempo il tuo modo d'agire è motivo di scandalo perpetuo perché hai agito così perché odio tutto quello che si frappone fra il tuo corpo e il mio anche la sola aria sono Giovanna di Castiglia e l'arciduchessa di Borgogne ma voglio essere anche tua moglie la tua donna e la tua sgualdrina chiunque cerchi di impedirmelo dovrà prima passare sul mio cadavere Filippo preoccupato affida i figli a una dama di compagnia e li allontana dal castello poiché teme che non sazia la madre potrebbe rivolgere la sua furia anche contro di loro intanto il 26 novembre 1504 muore la regina Isabella nel suo testamento Giovanna è indicata come l'erede al trono Filippo assapora già la corona di Castiglia ma una clausola contenuta nell'atto lo inquieta terribilmente in assenza in assenza di mia figlia Giovanna o di fronte a qualsiasi impedimento che potrebbe pregiudicare la sua scesa al trono e la giusta amministrazione del regno la reggenza spetterà a mio marito Ferdinando II d'Aragona avanzando l'ipotesi della follia di Giovanna Ferdinando potrebbe impugnare il testamento e diventare re di Castiglia al posto di Filippo invece inspiegabilmente Ferdinando si fa da parte e stipula un accordo con il genero un accordo che esclude Giovanna dalla successione al trono dichiaro che la serenissima regina nostra moglie in nessun modo si vuole occupare né intendere di nessun genere di governo né altro e che anche se volesse farlo date le sue malattie e passioni che qui non vengono menzionate per correttezza questo significherebbe la totale distruzione e perdita di questi regni con la benedizione di Ferdinando Filippo è quindi a tutti gli effetti il nuovo re di Castiglia ma la tragedia incombe il sovrano lamenta una continua stanchezza e la febbre non lo abbandona mai il medico che lo visita individua degli strani rigonfiamenti all'altezza del collo Giovanna terrorizzata sembra ritrovare le forze e cura personalmente il marito con salassi e medicine ma è tutto inutile il 25 settembre 1506 sotto gli occhi della moglie Filippo il bello muore io ho bisogno di lui come dell'aria che respiro il mio signore è giovane ha solo 28 anni perché Dio mi fa questo maestà la consola un consigliere di corte comprendiamo il vostro dolore la perdita del re rattrista tutti noi ma abbiamo bisogno della vostra presenza dovete farvi forza la Castiglia ha perduto il suo re ora più che mai ha bisogno della sua regina ma a Giovanna non importa nulla del regno mentre cresce il sospetto che Filippo sia stato avvelenato da Ferdinando la giovane vedova non abbandona neppure per un istante il cadavere del marito così scrive un cronista olandese dopo essere rimasta lì per tutto il tempo del funerale chiamò le guardie e fece tirare su il feretro lo fece aprire e strappò il sudario che avvolgeva il corpo del cadavere del marito fatto ciò si mise a baciare i piedi di Filippo rimase lì per molto tempo finché non si dovette trascinarla a forza la perdita è il colpo di grazia per Giovanna che sprofonde in un'oscurità mentale dalla quale non si riprenderà mai più ogni giorno si reca nel sepolcro del marito e ne bacia le sfoglie alimentando le voci sulla sua follia era posseduta dall'idea che il corpo di suo marito fosse stato stregato da donne malvagie e invidiose che la sua morte fosse solo apparente ed era sicura che nel giro di poco tempo sarebbe ritornato in vita il padre Ferdinando approfitta della situazione per farla interdire e la rinchiude nella fortezza di Tordesilias dove è sorvegliata ad ogni passo da dodici guardie e soprattutto da Luis Montsenferrer malvagio consigliere di Ferdinando spesso la poverina restava là gli occhi spenti le mani tremanti e si dondolava senza tregua senza pronunciare una sola parola altre volte si risvegliava e chiamava a gran voce il nome del marito strappandosi i capelli graffiandosi il viso in quel momento arrivava Ferrer e ordinava che venisse sottoposta alla tortura della corda oppure restava solo con lei e nessuno osava chiedere a quali atrocità sottoponesse la poveretta finestre sbarrate nessuna visita solitudine forzata queste le condizioni di vita della povera Giovanna neppure il figlio Carlo ormai divenuto imperatore prova affetto per lei si dice addirittura che se ne vergognasse rimosso Ferrer dall'incarico questi affida la fortezza di Tordesillas a Denia Duke un uomo di sua fiducia che tutti chiamano il marchese terribile in una lettera Duke scrive a Carlo V se vostra maestà ordina che sua altezza venga trattata con riguardo agisce come un buon figlio e fa davvero ciò che è utile assicurando che nulla le farebbe bene quanto la tortura intanto negli ultimi anni che la separano dalla morte la salute fisica di Giovanna peggiora progressivamente e la malattia la divora sino a devastarla nel corpo e nello spirito un frate dominicano Francesco Borgia è l'unico conforto in tanto dolore aprite il vostro cuore alla confessione donna Giovanna solo così troverete quella pace che da anni ormai vi negate che peccati volete che abbia commesso padre sono solo una povera donna che soffre e poi sono circondata da streghe e diavoli impenitenti che mi torturano mi maltrattano mi impediscono di parlare con Gesù e sporcano l'acqua benedetta ai piedi del mio letto fatevi forza figlione Dio attende soltanto un gesto d'amore verso di lui e io attendo un gesto d'amore verso di me la morte l'unico che possa alleviare le mie sofferenze in modo che io possa tornare accanto al mio amato Filippo le sue preghiere vengono esaudite nel gennaio del 1555 dopo 46 anni passati al Toro de Sias fra torture soprusi e violenze di ogni genere Giovanna di Castiglia muore nel 1574 le sfoglie della sfortunata regina furono trasportate a Granada e da allora riposano accanto a quelle del suo adorato Filippo l'uomo che l'aveva condotta la follia e che lei non aveva mai cessato di amare buonasera a tutti da Antonella Ferrera questa sera per parlare di Giovanna la pazza abbiamo in collegamento telefonico il professor Vittorino Andreoli buonasera professore buonasera professore a Giovanna è rimasto incollato l'appellativo di pazza secondo lei ha torto o ha ragione? se dovessimo leggere il comportamento di Giovanna oggi diremo fondamentalmente che è un'iste erica però dobbiamo anche dire che la pazzia di cui l'hanno definita le hanno attaccato addosso serviva molto anche al potere e quindi qui assieme ad un disturbo della personalità di Giovanna c'è certamente una follia del potere cioè quella follia per cui una ragazza di 17 anni viene mandata in sposa ad un uomo che non ha mai visto e a 17 anni quindi parte per diventare sposa in un paese che non conosce tutto questo è logico per il potere ma è fuori per le esigenze di una ragazza di 17 anni professore Andreole infatti Isabella sua madre non solo la mandò in sposa ad un uomo che non aveva mai visto ma la educò anche in modo repressivo e bigotto e credo che anche questo abbia influito sulla personalità di Giovanna beh ecco certamente qui se vogliamo usare il termine patria un poca gliela dobbiamo dare anche a Isabella a questo personaggio della storia così importante a cui si lega la scoperta dell'America la grandezza della Spagna di quel tempo però era una persona disanimata priva di affetti di sentimenti e ci appare soprattutto da questa storia come puro calcolo della figliola mentre parte appunto gli dice ma tu hai un solo dovere quello di sposare quest'uomo perché dà garanzia alla Spagna e quindi al potere certo che una madre vista oggi con la sensibilità e quindi con i bisogni del tempo presente beh certo sarebbe una madre pazza totale si dice che Giovanna impazzì anche a causa della gelosia che nutriva per Filippo secondo lei si può impazzire d'amore di gelosia? beh questa è una storia curiosa perché nonostante non l'avesse mai visto Giovanna come vede Filippo non a caso appunto il bello se ne innamora ma da questo momento è un amore molto strano innanzitutto è un amore che vorrebbe idealizzare e questa è una caratteristica della isteria tant'è vero che non si concede all'amore nasce una questione di corte fino al punto da dover dire ma se tu non ti concedi il re poi farà figlioli con altri ecco e qui parte una gelosia cioè un delirio una unione che finisce per occupare tutto il mondo di Isabella ed è proprio qui la follia potremmo dire che la gelosia portata all'estremo fino a quando quando Filippo il bello morirà fino a condursi a trascinarsi dietro il marito in una bara di vetro per poter la sera aprirla e mettersi vicino ecco che qui viene fuori da una parte un amore idealizzato che rimane anche dopo la morte e dall'altra parte però un regime di assessualità che risulta anche da tutta una serie di privazioni che Giovanna avrebbe praticato fin dall'età infantile e poi adolescenziale Giovanna arrivò addirittura di autoinfliggersi delle pene corporali cioè tutto questo fa parte della follia di un integralismo religioso o si può spiegare diversamente no ecco un'altra delle caratteristiche per cui oggi noi parleremo di isteria è proprio ed è la caratteristica principale è la resistenza al dolore ma non solo al dolore fisico per cui portava il cilicio durante l'adolescenza poi veniva frustrata ma è stata per 45 anni segregata nella torre di Tordesilas dove ha subito di tutto e certamente avevano la volontà di farla morire ma non ci sono riusciti quindi la caratteristica principale che è proprio della isteria è quella che si chiama appunto la insensibilità al dolore una specie di anestesia il matrimonio fra Giovanni e Filippo il Bello fu deciso a tavolino e le cose andarono come andarono ma oggi nell'assoluta libertà di decidere con chi stare e quanto tempo starci perché accadono ancora certe cose beh diciamo che che oggi non c'è più progetto né progetto individuale sovente né certo progetto dinastico nemmeno credo più ormai nelle grandi dinastie però oggi senza progetto il matrimonio si consuma con una rapidità che ormai porta a rottura dopo pochi anni dopo sette anni sono ormai circa il 40% le relazioni che si rompono ma potendo decidere di separarsi di divorziare come mai succedono ancora dei fatti così violenti legati proprio a dei rapporti consumati beh perché c'è la gelosia vede spesso i matrimoni si rompono per disaccordo diciamo perché le cose sono regolate dall'odio ma non ci si rende conto che l'odio è un legame fortissimo perché è parte della medaglia dell'amore e quindi rompere un legame d'odio anche con tutti i tribunali che si vogliono gli intermediatori possibili è sempre estremamente difficile in altre parole è più difficile rompere un legame di odio che non stabilire un legame d'amore professore Andreoli grazie per il suo prezioso contributo io ringrazio anche i nostri ascoltatori per aver scelto la nostra compagnia